Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qui per parlare della corte di rose spine e del principe crudele, no in realtà no, non è vero, però visto che il mese scorso è uscita la prima puntata del format che a quanto pare vi è piaciuto davvero tanto, ovvero se vi è piaciuto X potrebbero piacervi questi titoli, Twilight ha riscosso molto successo e quindi insomma perché non continuare e non riparlare di alcune serie abbastanza popolari, in questo caso mi riferisco a una serie che come sapete io amo moltissimo, ovvero la corte di rose spine, sto scherzando chiaramente di Sarah J. Maas ma anche potremmo accomunarla in qualche modo al principe crudele di Holly Black e dopo capirete in che senso perché se ci fossero dei malcapitati tra di voi che non sono mai capitati su questo canale prima e ci sono arrivati solo tramite questo video, qualche accortezza che, visto la prima puntata che era dedicata a Twilight mi sento di fare, ovvero che io non sono una fan della serie, quindi se siete qui sperando di fangirlare insieme a me sarà una grande delusione questo video. Allo stesso tempo io ho dei grossi problemi con sia la corte di rose spine che col principe crudele, però ho cercato in tutti i modi di trovare delle serie che possano accumunare sia i fan della serie che ne apprezzano alcuni aspetti e dopo li vedremo insieme sia chi fan non lo è, ma comunque potrebbe apprezzarne il lato di intrattenimento che è quello che penso sia il valore più grosso di queste serie. Quindi ho cercato per questo video di isolare alcuni elementi che secondo me sono forti legati a queste serie per riuscire a darvi dei suggerimenti che possono essere molto utili e molto interessanti per voi, insomma, per trovare delle opere che possono un po' incuriosirvi e interessarvi ecco, se volete capire cosa ne penso bene della serie della corte di rose spine o del principe crudele vi rimando a dei video che ho fatto in passato, soprattutto sulla massa, io mi sono concentrata moltissimo per evidenziarne le problematiche. Ripeto che è una serie che ho apprezzato fino a un certo punto perché era di intrattenimento, poi a un certo punto trattava di una tematica a cui io sono abbastanza legata che è la sindrome prostraumatica, però poi è una presa per i fondelli, tutto si ribalta, tutta la prospettiva si ribalta e vengono alla luce ancora in maniera ancora maggiore probabilmente tutte quelle problematiche che magari avevi finto di non vedere nei primi due poi finto, in realtà c'erano, è chiaro, però ci sono cose che vanno oltre detto ciò, quindi io spero che con grande tranquillità qua non giudichiamo i gusti di nessuno però è giusto che insomma anche le altre prospettive abbiano il loro spazio che cosa ho isolato per fare questo video? Tre elementi fondamentali il primo è l'aspetto delle creature, cioè dei fei, cioè le fatine perché non mi sentirete mai chiamarli fei, io le chiamerò fatine perché diciamo che i fei sono l'elemento che accomunerà tutte le serie delle quali andremo a parlare e quello che accomuna anche la corte di rose spine con il principe crudele anche se in realtà i fei della massa sono una via di mezzo tra i fei, cioè le fatine e gli elfi perché si comportano in una maniera un po' ambigua non hanno i tratti caratteristici insomma della tradizione folcloristica legata ai fei detto ciò ovviamente oltre alle creature che fondamentalmente interessano non a tutti saranno tutte serie che hanno a che fare con il romance in qualche modo e soprattutto hanno a che fare con l'aspetto trash delle storie perché alla fine ci sono tematiche che emergono molto bene in queste serie anche se sono serie trash e che intrattengono e io questa non la giudico assolutamente un qualcosa di negativo anzi quando il trash è consapevole per me assume un sacco di valore quindi io direi di iniziare perché oggi abbiamo già perso abbastanza tempo come sempre giù nell'infobox trovate tutti i link alle opere delle quali parlo così potete andare ad approfondire, potete andare a spulciare da qualche parte cosa sono se vi possono interessare non tutte le serie delle quali vi parlerò sono tradotte in italiano quindi ve lo specificherò sempre così potete scegliere se andare sulle serie in italiano se buttarvi anche su quelle in lingua direi di iniziare la prima serie della quale vi parlo è Rhapsodic di Laura Talassa allora Laura Talassa io non sapevo chi fosse me l'ero anche scordato poi mi sono ricordata che Elena, cioè Miss Nerily aveva fatto questa magnifica recensione di Pessilence e niente quindi che cosa racconta Rhapsodic fondamentalmente? questo è forse il libro più simile ad Akotar e quindi per questo parto da questo primo titolo cioè Rhapsodic proprio perché è forse quello che può più interessare i fans e avere anche elementi in comune è una sorta di vero e proprio plagio in realtà perché è nato è una sorta di vero e proprio plagio in realtà di Court of perché è uscito esattamente un anno dopo sono passati sette anni da quando Calypso ha visto per l'ultima volta il bargainer ovvero un essere che è capace di qualsiasi cosa e che stabilisce con chi richiede un qualsiasi desiderio un rapporto vincolante quindi ad ogni desiderio corrisponderà un debito ovviamente questi debiti sono sempre stati riscossi dal bargainer e anche con gli interessi e ovviamente solo uno dei suoi clienti non ha ancora pagato il proprio debito in questo caso si tratta di Calypso detta Calli ovviamente finché una sera non se lo ritroverà in casa e il bargainer è tornato e ha intenzione di riscuotere ogni singolo favore concesso a Calli quasi sette anni prima Calli da qui viene trascinata in quello che si chiama l'other world cioè la dimensione nella quale abita in realtà e dal quale proviene il bargainer insomma il mondo dove stanno le fattine in pratica perché lui le chiede le chiede di aiutarlo a risolvere un problema un mistero che sta affliggendo il suo mondo Calli deve per forza chiaramente dargli una mano perché è obbligato da questo vincolo e deve ovviamente saldare i suoi debiti ma guess what? e vi lascio qua perché ovviamente lo dovete scoprire da soli e che cosa hanno in comune una corte di rose spine e rhapsodic un sacco di cose in realtà per questo dico che è un po' un plagio innanzitutto in comune hanno tutti i buchi di trama che vabbè questi bellissimi buchi nel world building che sono eccezionali come hanno in comune la scrittura che cerca di deviare e in qualche modo condizionare le emotività del libro come se al lettore fosse imposto di provare certi sentimenti chiaramente oltre ad alcuni personaggi che chiaramente in qualche modo vi ricorderanno quelli della serie di Akotar questo è veramente un po' più che un tributo cioè siamo lì lì per se avete infatti letto Akotar Des vi ricorderà moltissimo Rizand me la butto lì eh giusto che così lo sapete il bargainer cioè Des è in realtà anche un personaggio che non mi sento di bocciare del tutto e davvero se l'autrice non si soffermasse continuamente a raccontarci dei suoi addominali dei suoi pettorali di tutte le linee del suo corpo che è chiaramente magnifico e piacevole magari saremo riusciti anche come lettori ad apprezzare un po' di più alcuni tratti del suo carattere che sinceramente non mi sento di buttare del tutto alcuni sono agghiaccianti altri potevano essere approfonditi sicuramente meglio questo è un libro che comunque è abbastanza misterioso molto ironico c'è un sacco di angst che questa è una cosa che sicuramente ai fan sia del principe crudele che della corte di rose spine sicuramente piacerà molto il romance non manca assolutamente e diciamo che la cosa che apprezzo di più di questa serie è che intrattiene in maniera abbastanza piacevole non vi dovete suffermare sulla logicità di ogni passaggio ma quello insomma siete abituati però devo dire che la cosa che più apprezzo è che non cerca di elevarsi a qualcosa che non è cioè non cerca di essere meglio di ciò che è e questa è una cosa molto onesta che io apprezzo tanto non cerca di essere a tutti i costi smielato anche se la componente romance è chiaramente presente o di drammatizzare eccessivamente il tutto cioè è abbastanza onesto anche in questo cioè c'è tensione chiaramente perché si tratta comunque di entrare in un mondo scuro di risolvere dei misteri eccetera eccetera però non è che ogni scena ogni azione viene vissuta come se arrivasse la fine del mondo cioè non è la mass c'è molto dinamismo c'è quella tematica ovviamente enemies to lovers che chiaramente piace molto vabbè raga non ci vorrei ricamare sopra troppo perché penso sia anche ingiusto rhapsodic ha elementi che possono interessare moltissimo e possono piacere moltissimo ai fan della mass quindi segnatevi questa serie in tutto ciò io so che mi piace nominarla però d'altronde io penso che qualsiasi scrittrice o scrittore trash deve prendere lezioni da Laurel K. Hamilton perché la Hamilton ha inventato tutto cioè come si fa bene il trash infatti in questo caso non potete non leggere se volete trash e volete fattine la serie di Mary Gentry che inizia con Un bacio nell'ombra che cosa racconta questa serie formidabile? intanto seguiamo la storia della principessa Side Meredith Nick Essus che lavora per la Grey Detective Agency sotto il nome presunto di Meredith detta Mary Mary Gentry Meredith è stata in fuga dalla sua famiglia negli ultimi tre anni perché la regina della corte Anseli la vuole morta e Mary essendo per un quarto umana è anche mortale quindi è in grave pericolo ovviamente nonostante questo ha ancora però un posto di rilievo nella corte reale delle fattine e in questo mondo che è popolato dai fe ma non solo è pieno di numerose creature muta forma creature mitiche in generale insomma in qua non mancano insomma in questo mondo non mancano proprio le creature in generale la storia inizia quando due donne si presentano all'agenzia di Mary una storia su aspiranti fe cioè persone che vogliono diventare fe e rettuali invece che coinvolgono le donne fei Mary decide di andare sotto copertura ad indagare ma tanto cioè diciamocelo della trama non ce ne frega nulla arriviamo al motivo per il quale questo libro in questo video per farvi capire il livello di trash ok tanto cioè non giriamoci attorno Mary ha un fidanzato che è una foca ok cioè è un muta forma che è una foca e diciamo che mentre stavano facendo le cosacce tra di loro lui si è ritrasformato in una foca ed è scappato quindi Mary a un certo punto scappa via con un uomo che ha dei tentacoli sul petto come se tutto fosse normale e mentre questi due stavano facendo le cosacce tra di loro arriva una strega ad interromperli perché questa strega le rivela di essere ambitissima nella corte fe in quanto principessa ovviamente le viene data in dote cioè è obbligata a essere scortata da moltissime guardie super sexy poste proprio dappertutto perché in fondo tutti stanno cercando anche di ucciderla allo stesso tempo quindi lei cosa fa? stringe un patto con i goblin per essere protetta e uno di questi goblin ha finito per morderla mentre lei stava facendo le cosacce con un'altra delle sue guardie perché anche lui voleva essere coinvolto e in tutto ciò salta fuori che la regina Fae voleva che Mary facesse sesso con più persone possibili perché aveva più chance di rimanere incinta e quindi di dare finalmente un'erede al trono tu ad una certa lettore sei il tentato di abbandonare perché si raggiungono veramente dei livelli inenarrabili davvero e quindi il livello è veramente altissimo ma non ce la fai non ce la fai perché alla fine succedono cose sempre più assurde quindi cioè tu ti diverti ti diverti come un povero scemo cioè insomma viva la foca dopo questa presentazione come capite qui nulla ha senso in questa serie tutto è un pretesto però capite quanti cereali sotto marca Sarah J. Maas si deve ancora mangiare cioè non lo so io devo dire che la Hamilton per me è la regina assoluta del trash perché raggiunge delle vette non lo so che nessuno mai quindi lo so se volete una serie assurda divertente con le fartine piene di boni piene di scene esplicite questo è il libro che fa per voi questa è la serie proprio che fa per voi e sarà sempre peggio nel corso della serie allora invece tornando un attimo indietro cioè non mettendo l'acceleratore come è stata per la serie ovviamente di Mary Gentry andiamo su un'altra serie che si chiama Amori nel Tempo che è una traduzione anche proprio brutta in originale si chiamava Beyond Highline Mist è un libro del 99 una serie del 99 di Aaron Murray Moaning lei ha anche scritto Dark Fever che è un'altra serie sempre sulle fatine però io ve lo giuro già qua tocchiamo degli apici io non mi sento anche di suggerirvi Dark Fever perché io non ce l'ho fatta a finire il primo detto ciò questo lo possiamo riassumere questo amore nel tempo lo riassumiamo come Outlander con le fatine inquadratelo così in pratica se sto ridendo moltissimo perché veramente Hawke è un predatore praticamente un bono leggendario della Scozia del 15esimo secolo 16esimo secolo non mi ricordo e in pratica nessuna donna può resistere al suo fascino perché ovviamente è un manzo allucinante e conta più di 500 conquiste però tutte chiaramente senza alcun vincolo romantico succede però che a quanto pare lui conquista anche la regina di un regno delle fattine e questo fa incazzare da morire re Finbrea che è il re delle fate suo consorte che decide ovviamente di maledirlo e di organizzare un piano per vendicarsi di lui quindi cosa decide di fare tramite il suo diciamo giullare di corte di trovare una donna che lo respinga e che assolutamente lo odi cioè che anche qua voi capite che siamo a dei livelli già altissimi qui entra in gioco la nostra protagonista Adrienne che è una donna che odia a morte gli uomini belli e di successo perché ha avuto un'esperienza orribile di suo e è una donna però del ventunesimo secolo perché prima non ne avevano trovate di donne che potevano respingere il nostro Hawke e lei viene trasportata nella Scozia del sedicesimo secolo e costretta a sposare Hawke grande conquistatore però non sa che lei è una donna in realtà indomabile e che non gliene frega assolutamente niente di essere la sua sposina carina che è una donna dei nostri tempi è una donna testarda indipendente e che non obbedisce a tutti i desideri del marito ovviamente cioè ci troviamo ovviamente in una dimensione in questo romanzo che è quello di una donna dei tempi moderni trasportata indietro in una dimensione storica nella Scozia del sedicesimo secolo che include ovviamente uomini in kilt mazzi in abbondanza feudalesimo e un sacco di sessismo questo scozzese Hawke il nostro protagonista è chiaramente un donnaiolo che non ha assolutamente interesse nello stringere dei legami un po' più profondi con le donne con cui ha dei rapporti e naturalmente si innamora della donna vivace un po' indipendente del ventesimo secolo perché lo tratta male diciamo che questo è chiaramente un meccanismo che prende spunto da Outlander cioè tornare nella Scozia dei tempi passati per il grande bono delle compagini scozzese dei clan scozzesi però devo dire che prende sia degli elementi che sono popolari anche nell'ambito roman storico come in questo caso nel caso di Outlander e come nel caso di Amore del Tempo e lo mescola anche però al folklore e ai miti diciamo di stampo celtico che in questo caso si mescolano in maniera furba cioè hanno pochi elementi efficaci e funzionano e vi dirò una roba che sembra assurda però in mezzo a tutta questa marea di trash è una serie super divertente perché è assurda e nonostante tutto ciò che è problematico dentro questo libro ma che non viene nemmeno mai nascosto che questa è una cosa apprezzabile si fa leggere comunque molto volentieri anche qui se amate il meccanismo enemies to lovers hate to love eccetera eccetera questo è perfetto per voi chiaramente un libro da prendere con le super pinze non aspettatevi nessun tipo di capolavoro neanche uno standard di decenza anzi fa veramente ridere perché le figure maschili fanno veramente pietà cioè in questo volume le figure maschili sono costruite in un modo terribile sono davvero alla stregua degli orsi con dei metodi incivili totali molto risibili spesso assurdi e non mi sento assolutamente di salvare anzi povere figure maschili però devo dire che comunque se lo prendete come un guilty pleasure è divertente e intrattiene quindi io ve la butto lì e ci sono ovviamente le fatine che era il tema per cui era finito qua in mezzo la prossima serie invece che vi suggerisco è la serie di Elantra di Michelle Sagara inizia con il primo libro che si chiama Cast in Shadows questo però lo trovate solamente in inglese mentre la serie precedente e anche quella della Hamilton ci sono anche in italiano chiaramente Eliane è una bambina di sette anni orfana che vive per strada che sette anni prima dell'inizio della nostra storia fuggì dalle strade del feudo nel quale abitava cioè Night Shade perché sulla pelle le apparvero alcuni segni particolari che erano stati ritrovati anche sulla pelle di un sacco di bambini che erano stati uccisi da allora ha cambiato nome in Kaylin ha imparato anche a leggere ha imparato a combattere è diventata anche uno dei falchi che patugliano sorvegliano e proteggono la città di Elantra accanto agli aeriani alati e all'immortale Barrani ha costruito fondamentalmente un posto per se stesse e si è ritagliata un ruolo ben lontano da quelle che erano state le strade e la povertà della sua infanzia ed una magia curativa che pratica in silenzio e di nascosto sotto la protezione però del Lord dei falchi perché se venisse scoperta per lei sarebbero guai seri però ora i bambini stanno tornando a morire vengono uccisi di nuovo e gli omicidi sono sempre più vicini anche i segni sulla sua pelle si stanno trasformando il Lord dei falchi l'ha messa sul caso e lei deve scoprire cosa succede allora partiamo dal presupposto questa serie secondo me ha in realtà un potenziale immenso ma poi diciamo che come bozza questo libro sarebbe stato perfetto il problema è che è un libro pubblicato e quindi non ci siamo neanche per un po' però il concept è interessante ci vengono tra l'altro presentate anche tutta una serie di razze un world building che potrebbe avere un potenziale immenso cioè ad Elantra ci sono sette razze è anche un mondo dove tu sei lanciato all'improvviso e non è che ci viene spiegato granché del world building lo scopri un pochino a spizziche e bocconi il problema è che poi non è che viene approfondito cioè no toglietevelo dalla testa diciamo che questo è un libro perfetto se quello che cercate è una storia di azione e in questo caso ce n'è in abbondanza con un po' di romance che si sviluppa nell'arco dei libri quindi non è nemmeno un insta love e questo comunque è apprezzabile diciamo che se queste sono magari caratteristiche che state cercando dategli una chance se invece state cercando un world building costruito come si comanda zero stereotipi conversazioni realistiche non fa per voi ma d'altronde se avete apprezzato o la massa o il principe crudele e magari questa è una serie che si rivela invece piacevole tanto l'editing non è stato fatto nemmeno qui sempre in italiano poi c'è anche Wicked Lovely ovvero Incantevole e Pericoloso di Melissa Marr in questo caso la nostra protagonista cosina non ho mai capito come si pronuncia ma si chiama tipo Aislin o Ashley detash comunque morale della favola è una diciassettenne che non è ovviamente come le altre ragazze perché Ash riesce a vedere le fattine e non fattine buone fate che sono tendenzialmente molto meschine molto cattive Ash ha imparato nel tempo a fingere di non vederla controllarsi chiaramente a non sembrare spaventata o a non iniziare a correre appena qualcuna le si avvicina perché chiaramente questo potrebbe metterle in serio pericolo tuttavia quando Kenan che è la nostra fattina ovviamente buona manzissima e quant'altro dotata di questa bellezza devastante si avvicina il nostro interesse per lei e Ash si rende conto di essere in vero pericolo e che chiaramente non può continuare a fingere di ignorare le fattine e fare finta che non esistano Kenan che è il re della Summer Court delle fate la vuole come sua regina anzi ha bisogno che lei sia la sua regina ma Ash non lo vuole perché è segretamente innamorata di Seth che però non se la fila manco per scherzo ignora proprio i suoi sentimenti è solo un suo amico e Ash diciamo che non è che ha lavorato sodo per farglielo capire anzi ha nascosto tutto perché non vuole che la cosa rovini la sua amicizia queste robe comunque mentre Kenan rifiuta chiaramente di arrendersi e vuole la cosina Seth si dimostra l'unico a cui Ash può effettivamente fare affidamento e del quale si può affidare e da qua allora di questa serie chiaramente lo stile è abbastanza tragicomico ma se dello stile alla fine non ve ne frega nulla ve ne frega un emerita cippa e se della caratterizzazione se della presenza di stereotipi ve ne frega ancora meno questo è il guilty pleasure che fa per voi detto ciò anche perché la serie prende comunque una serie di imbocchi un po' inaspettati aggiungendo quel minimo di complessità alla storia che comunque la rende in qualche modo piacevole cioè le fate di questo romanzo sono in realtà molto vicine a quelle della tradizione celtica ci sono presentate innanzitutto come fe di stampo maligno e crudele con i loro eterni banchetti al di fuori dello spazio e del tempo infinite danze al chiaro di luna e chiaramente le sconsigliabilissime bevande magiche che ti offrono detto ciò secondo me questa è una serie dove innanzitutto ci sono alcuni elementi che potrebbero interessare come il triangolo come comunque il rapporto che si sviluppa anche lentamente anche se è chiaro abbastanza da subito come andrà a finire però devo dire che comunque questo presa come guilty pleasure è una serie che potete leggere tranquilli dopo wicked lovely passiamo invece a una serie che secondo me ha degli spunti abbastanza validi altri invece riconducono ovviamente all'ambito un po' più trash però sto parlando della serie di October Die di Sheenan McGuire che è la stessa autrice di Every Heart A Doorway e il primo libro di questa serie che purtroppo c'è solo in inglese si chiama Rosemary and Rue October detta Toby Die è una changeling anche se noi probabilmente possiamo più identificarla come una shifter ed è una ragazza mezzo sangue da oine e side è cresciuta nelle Summerlands ultimo dei veri regni fe solo per fuggire nel mondo mortale durante la sua adolescenza per crearsi una vita che potesse effettivamente definire e chiamare sua e per un po' sembrava che potesse riuscirci davvero peccato che durante una sua missione lei continua a lavorare in segreto come agente nel regno umano durante una sua missione tutto va storto e lei viene trasformata in un pesce per 14 anni non ricordo male una carpa comunque fa ridere detto così però in realtà è una cosa anche abbastanza seria all'interno del libro all'inizio di Rosemary and Rue Toby si è appena ritrasformata da circa 6 mesi e in tutto ciò lei vuole essere lasciata da sola la vita umana che aveva costruito chiaramente non esiste più non c'è più e non vuole avere nulla a che fare con i fe anche se chiaramente questo è prevedibilmente più facile a dirsi che a farsi una sera Toby rientrando trova il messaggio vocale di una sua amica che è in pericolo che le dice di sapere che la sua fine è imminente e chiede a Toby di riuscire a trovare chi l'ha uccise a vendicarsi altrimenti morirà anche lei e ora Toby chiaramente non ha altra scelta che tornare alla vita che aveva lasciato alle spalle tanto tempo fa l'omicidio della sua amica chiaramente riporta Toby nel mondo delle fatine e la sua unica speranza è quella di risolvere il mistero che c'è dietro tutto quello chiaramente facendolo prima che la vera maledizione colpisca anche lei qui troverete sicuramente un mondo che ha una certa complessità è interessante e affascinante da scoprire la nostra protagonista è una fe che all'apparenza sembra chiaramente una ventenne perché questo è dato dalla sua natura sovrannaturale possiamo dire ma che chiaramente ha una maturità e un'esperienza di vita un po' diverso da una classica ventenne chiaramente e diciamo questo la inquadra come una protagonista che è un po' più interessante di una classica strong female character diciamo che la McGuire non si è risparmiata sicuramente una serie di stereotipi che però sfrutta flettendoli a proprio vantaggio diciamo che vista la sua storia visto ciò che le è accaduto e ciò che insomma vediamo diciamo anche quando la nostra protagonista raggiunge i picchi di sgradevolezza per il lettore risultano abbastanza comprensibili e anche condivisibili in una certa maniera lei chiaramente è arrabbiata è sconfitta è pervasa dal rimorso ma è proprio forse grazie alla rabbia che la nostra protagonista riesce a riconquistare la propria vita e a ricostruirla diciamo che non torna tutto di questo sistema magico e spesso ci sono anche cose che si potevano evitare ma secondo me questa serie è un'esperienza piuttosto interessante se siete interessati anche a approfondire sistema magico le fatine il mondo fe eccetera questo è forse uno dei libri migliori che vi suggerisco oggi nonostante la dose di trash che non manca chiaramente non è una serie incredibile anche quella che vi sto per raccontare però secondo me ha i suoi punti a favore e sto parlando di The Fairy Guardian di Rachel Morgan che ho scoperto sta per uscire in italiano con il titolo il guardiano delle fate Violetta è la nostra protagonista è una fe e il suo compito è quello di proteggere gli esseri umani tutti i suoi anni di addestramento non avrebbero mai potuto prepararla all'incontro con il ragazzo umano Nate che incrocia il suo percorso come suo nuovo incarico in questo caso perché in teoria gli umani non dovrebbero poter vedere le fate ma Nate non solo la vede ma la segue nel regno delle fatine più tempo trascorrono insieme più inizia a rivelarsi ciò che sta dietro la sua storia ciò che lui è in realtà chi sono in realtà e cosa sta succedendo dietro le quinte del suo mondo di cui lei però non era assolutamente a conoscenza si scopre quindi che Nate è molto più di quanto sembri e vi ha nemici che non conosceva in realtà e questi nemici dei quali scopre V vogliono usare il suo potere del quale lei non era nemmeno a conoscenza per scopi molto poco nobili e in tutto ciò si inserisce un certo Rin che le deve dare una mano nonostante i due fossero prima migliori amici finché non hanno litigato a morte e si odiano a vicenda quindi insomma seguiremo le vicende della nostra cosina e di Nate e di Rin questa serie è un ottimo ponte sia per i fan di Akotar che per i fan di Cruel Prince secondo me per una serie di elementi innanzitutto perché rivedrete la dimensione del triangolo anche se si snoda su diversi elementi rispetto a quanto succede in Akotar perché si snoda anche proprio su dimensioni diverse e si snoda anche in parte su delle dinamiche hate to love eccetera eccetera mentre chiaramente c'è un'attrazione istantanea tra Violet e Nate dall'altro lato c'è un lavoro molto più lento di sviluppo con altre altre questioni Nate è un po' il comic relief di tutta questa questa situazione no? non è assolutamente assimilabile né a un Tamlin né a un Reesand però davvero se cercate qualcosa di poco impegnativo che intrattiene e comunque che ha una trama che in qualche modo si snoda su diverse tematiche anche legate al mondo dei fei se amate le dinamiche stile Akotar se amate Langst come c'è in Cruel Prince go for it cioè non lasciatevi scappare questa serie ci sono le fatine ci sono tutti questi elementi romance accostati a una trama principale che secondo me possono fare benissimo al caso vostro direi che per oggi siamo arrivati in fondo io spero di avervi dato dei suggerimenti utili come già dicevo all'inizio mi raccomando non prendetevela con me se sapete che non sono una fan di queste due serie ne ho parlato a lungo e penso di aver esposto ben bene tutto ciò che penso riguarda queste serie però spero di avervi dato dei suggerimenti che vi possono stuzzicare se avete letto qualcuna delle serie che ho suggerito oggi fatemelo sapere incontriamoci nel trash perché così avete scoperto che anche io ho un lato trash e che comunque ho approfondito anche questa quest'area della letteratura e spero davvero che insomma qualche suggerimento possa fare per voi se siete fan di qualche serie che ho citato parliamone insieme sono curiosa mi diverte molto sempre eviscerare questi suggerimenti che vi do se ne avete altri mi raccomando che chi è fan di queste due serie e vuole leggere cose simili può trovare dei suggerimenti anche grazie a voi chiaramente niente io direi che per questa puntata del se vi è piaciuto x vi piacerà y sono arrivata in fondo spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi di mettere un pollicino in alto spero di avervi tenuto compagnia e per tutto il resto direi che ci vediamo al prossimo video ciao